ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò di due libri che ho letto recentemente e che non solo mi sono piaciuti ma mi hanno anche emozionato parecchio prima di cominciare però le solite raccomandazioni mettete mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da ricevere le notifiche allora questi due libri sono due saggi che ho trovato molto interessanti e che esplorano in modo piacevole e divertente due decenni a due decenni a me molto cari ovvero gli anni 80 e gli anni 80 e gli anni 90 libri in questione sono questi due film pop anni 80 e film pop anni 90 tutte e due editi da becco giallo e scritti da matteo marino e simone stefanini con l'aggiunta di eva cabras per quanto riguarda il volume sui anni 90 leggerli è stata un'esperienza molto piacevole stimolante un po come affrontare un viaggio nel tempo a bordo magari della mitica dell'oreanne di ritorno al futuro un viaggio ricco di suggestione curiosità aneddoti e informazioni di ogni tipo attraverso le quali non solo si possono scoprire i film cult e girati in quegli anni ma capire anche i motivi per cui ancora oggi gli anni 80 e anni 90 sono così amati soprattutto da gente come me che quel periodo l'ha vissuto sulla pelle uno dei aspetti più interessanti che ho trovato in tutte e due libri e la divisione dei capitoli per sezioni la prima è buone si chiama buone e cattivi e si parla dei personaggi del film che si sta analizzando la seconda è cuore in cui si esplora il nucleo del film la sua anima legata a quel particolare decennio poi c'è icona pop che racconta tutto ciò che quel film ha significato per noi e che ci ha lasciato impresso la terza è playlist in cui si parla delle colonne sonore alcune delle quali diventate leggenda come quello ad esempio di flash dance oppure di ghostbusters poi c'è la sezione the watch in cui gli autori spiegano cosa significa rivedere questi film adesso in un'epoca così diversa da allora e infine mappa una sezione che diciamo indica tutte le location delle pellicole scelte nel nei libri e che è utile e che è molto utile per chi per chi vuole provare il turismo cinematografico ogni libro è diviso per anno con il 1980 181 82 lo stesso per gli anni 90 per ciascuno di questi anni sono stati scelti quei film che hanno fatto un po la storia del cinema mondiale la lista è molto lunga alcuni dei quali tra l'altro ancora oggi sono oggetto di veri culti religiosi altri invece come allora dividono ancora ancora i fan per quanto riguarda il volume sugli anni 80 troviamo film come t bled runner i predatori dell'arca perduta igunis gremlins karaki karate kid terminator ghostbusters flash dance solo per citarne alcuni ognuno di questo di questi titoli viene sezionato in modo quasi chirurgico restituendo una visione ampia e dettagliata ricca di anche di molti ricordi personali che aiuteranno il lettore novizio vedranno che sia a immergersi in un periodo d'oro per il cinema quello che ha segnato la nascita della hollywood che conosciamo oggi e che ha utilizzato il cinema spesso come arma di propaganda basti pensare ai film di rock il tutto viene condito da una serie di illustrazioni molto pregevoli che impreziosiscono e dando e danno ancora maggior volume a un lavoro che già di per sé è straordinario adesso ve ne faccio vedere qualcuna ecco sempre questa è quella di gremlins poi vediamo che troviamo questa è quella della storia infinita un altro film che ha fatto storia per quanto riguarda invece il volume sugli anni 90 e gli autori hanno scelto altri film molto famosi come pretty woman ghost bar fiction il silenzio degli innocenti giurassic park e molti altri titoli che a mio avviso non sono allo stesso livello di quelli del degli anni 80 del decennio precedente ma che hanno comunque contribuito alla crescita esponenziale del cinema come strumento di attenimento e hanno dato anche molti spunti a quella che sarebbe stata la la nuova televisione degli anni 90 attraverso l'analisi dei singoli film gli autori riescono a restituirci una una visione sugli anni 90 molto diversa da quella che abbiamo vissuto sulla pelle sottolineando le anche le contraddizioni ma anche i profondi cambiamenti che hanno coinvolto molti settori della nostra vita da quello della moda fino a quello dei giocattoli fino alla presa di coscienza soprattutto attraverso la televisione di quanto vicina potesse essere una guerra come per esempio la prima guerra del golf si tratta di un vero viaggio emozionale in cui film sono un po i nostri fantasmi del presente passato e futuro che ci guidano attraverso la nostra vita e le nostre emozioni permettendoci di rivivere di rivivere esperienze di rivivere appunto emozioni che tanti anni fa ci spingeva ad andare ad andare al cinema con la famiglia o con gli amici film pop anni 80 e film pop anni 90 sono due libri due libri che chi come me ha vissuto in modo intenso quei decenni non può fare a meno di leggere e non si tratta soltanto di semplice nostalgia o di voglia di revival ma di avere uno strumento in più per conoscere e riscoprire ciò che ci ha lasciato ciò che quegli anni ci hanno lasciato addosso perché se molti di noi sono ciò che oggi siamo è anche merito o colpa dei film che abbiamo visto al cinema quando eravamo piccoli magari tra il fumo delle sigarette e con il sapore dei pop corn in bocca e perché perché no per alcuni anche con il braccio con il braccio appoggiato sullo schienale della ragazza seduta accanto se non l'avete ancora fatto vi consiglio di leggerli e magari potete commentare questo video con le vostre opinioni ve li consiglio perché sono ripeto due volumi abbastanza corposi sono diverse centinaia di pagine ma che vale davvero la pena di leggere se volete si ammette quegli anni e volete riviverli in un modo del tutto unico e particolare anche per oggi è tutto vi rimando al prossimo video vi auguro buona giornata e mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace e attivate la campanella alla prossima